All'indomani dell'inaugurazione della tratta ferroviaria elettrificata a Conegliano Belluno, presso il magazzino merci della stazione del capoluogo ha preso corpo una mostra, visitabile fino a domenica, dedicata alla storia del treno con informazioni tecniche e documenti storici riguardanti quella che è più di una modalità di trasporto. Sono tanti gli appassionati che hanno contribuito alla realizzazione dell'esposizione Belluno Venezia un filo conduttore che unisce, curata da ferrovie arrugginite e treni belluno. L'appassionato è il bellunese, può vedere uno stand della Polfer dedicato ai più piccini, un bellissimo plastico ferroviario tutto bellunese con la stazione di Castellavazzo, di Bribano, il ponte sul Cordevole e tante altre belle cose, una parte della nostra biblioteca che sarà presto consultabile al pubblico, oggettistica e foto relative ai lavori di elettrificazione della linea. Un lavoro impegnativo, treni belluno, ferrovia arrugginite prima di tutto, ringraziamo Rete Ferroviaria Italiana che ci ha ospitato nel magazzino, Trenitalia per la collaborazione e il treno, il comune di Belluno per il patrocinio, la Polfer per la collaborazione e tanti altri che ci hanno dato una mano. Presente come detto anche la polizia ferroviaria che illustra il progetto Train to be cool, un'iniziativa tesa a far aumentare nei più giovani la sensibilità nei confronti della sicurezza ferroviaria, un'azione che non si è fermata nemmeno in tempi di Covid, sono stati infatti 1.800 i ragazzi delle superiori raggiunti quest'anno a distanza. Per gli organizzatori la partenza dei nuovi orari e della nuova linea rappresenta il più importante potenziamento infrastrutturale delle ferrovie bellunesi dalla Seconda Guerra Mondiale. Appassionati e sostenitori del trasporto su ferro, 5 anni fa era un sogno, oggi è realtà. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS